Ciao, benvenuto, benvenuta in questo video. Io sono Laura e oggi voglio rispondere a una domanda che mi viene fatta spesso da chi mi chiede informazioni riguardo Business Box Italia. Perché Mirko mette la formazione gratuita? Cosa ci guadagna? Dove sta la truffa? Ragazzi, rilassatevi, perché la truffa non sta qui ma sta là fuori, ok? Da tutti quei guru che vi promettono soldi facili in due giorni. Allora, tutti sappiamo bene che per fare l'imprenditore online, ma comunque l'imprenditore, devi investire qualcosa, ok? Non puoi pensare di fare del business senza investire niente. Perché se questa è l'idea che hai, veramente, te lo dico sul serio, stop a questo video, non continuare neanche a guardarlo. Perché vuol dire che questo tipo di lavoro non fa per te. Vuol dire che tu sei uno di quelli che preferisce continuare a lamentarsi della vita che fa. stipendio minimo, lavoro che non gli piace, mai tempo per niente. Se invece sei una persona che ha voglia di impegnarsi, di imparare e soprattutto di farsi il mazzo, allora sei nel posto giusto. Mentre là fuori tutti ti propongono i loro corsi a pagamento che costano migliaia di euro, qui li hai gratis. Perché questo? Perché Mirko vuole aiutare le persone. Il segreto del successo nel business è proprio questo, dare valore, aiutare le persone. Mirko ha già i suoi affiliati, ok? Non guadagna da me o da te. Non è come nel network marketing dove devi reclutare altra gente per vendere i tuoi prodotti. Qui hai gli strumenti e le ads da pagarti. Li hai dovunque, ok? La spesa è minima e te la gestisci te, soprattutto nel caso delle sponsorizzate. Per questo Mirko ha messo i video corsi gratuiti per i membri del movimento. Businessbox Italia sta anche collaborando con l'Università di Salerno, che è la più grande per quanto riguarda il marketing in Italia. Stanno inserendo proprio questi video corsi nei loro programmi universitari. Vieni a vedere con i tuoi occhi, clicca nel link che ti lascio qua sotto in descrizione. Prenditi un'ora del tuo tempo e guardati il webinar. Non ti costa nulla. Per questo video è tutto. Per qualsiasi informazione non esitare a contattarmi. Iscriviti al mio canale YouTube, così sei sempre aggiornato sui miei prossimi video. Lasciami un bel like, un commento se ti va. Ti saluto, ciao!